Prego il Leggio Presidente ha chiesto? Prego il Leggio. 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 Leggio. Prego il Leggio. Leggio. Prego il Leggio. Prego il Leggio. Leggio. Prego il 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 Leggio. 10% e una su quattro ha registrato cadute non inferiori al 25%, ovvero di un'entità tale da porre a rischio qualsiasi struttura di impresa. C'è poi tutta la filiera culturale che ha visto un crollo tremendo. Pensate colleghi a tutte le attività artistiche, sportive e di intrattenimento che sono morte, sono chiuse, che sono state dimenticate. Pensate ai teatri, pensate anche agli operatori dello spettacolo che sono stati così duramente colpiti. Fratelli d'Italia ha da subito annunciato come i ristori arrivavano e arrivano a coprire nella migliore delle ipotesi il 5%. Sì, avete capito bene colleghi, solo il 5% delle perdite avute nel 2020. Un'attività che ha subito migliaia di euro di perdite. Cosa se ne fa di un aiuto pari al 5%? Fratelli d'Italia resta convinta che le azioni da adottare siano ben altre e che debbano essere di gran lunga superiore a questa percentuale. Basta con i bonus che non sono che palliativi in una situazione già così difficile per le aziende italiane e che certo non le aiutano e non le sostengono come invece meriterebbero. Da tempo, colleghi, chiediamo che le aziende siano aiutate in altro modo, ossia attraverso misure in grado di contenere i costi fissi che restano sempre invariati. Questo comporterebbe evitare politiche puramente assistenzialistiche. Il 2020, cari colleghi, è stato un anno nero anche per l'editoria italiana. Nove editori su dieci hanno previsto per il 2020 una perdita consistente del proprio fatturato rispetto all'anno precedente, con evidenti ricaschi occupazionali. Per fare fronte all'impatto della pandemia sul settore dell'editoria, sono state diverse le iniziative promosse e realizzate dagli operatori. In primo luogo, il rinvio delle nuove uscite editoriali, in programma il potenziamento dei canali di vendita online e il ricorso al lavoro in modalità smart working per il personale interno. L'editoria ha pagato un prezzo molto alto durante la pandemia. Grazie anche a Fratelli d'Italia, sempre in prima fila e un passo precedente sempre rispetto al Parlamento, si è giunti a dare un sostegno importante al comparto dell'editoria, che è di fatto uno dei settori maggiormente in crisi. È di fatti notizia di giovedì scorso l'accoglimento del nostro emendamento, insieme ovviamente ai collegati dei colleghi, vedo Filippo Sensi, vedo la collega Nardelli e di altre forze politiche, ma su questo ricordo che erano già state approvate le osservazioni al parere su questo decreto in Commissione Editoria e su proposta di Fratelli l'Italia si era arrivati a fare osservazioni per arrivare almeno al 30% del credito in posta. Questo emendamento afferma il 10% e quindi 30 milioni, che è sicuramente una cifra importante ed è sicuramente una bella vittoria trasversale, ma noi auspichiamo che si possa investire di più, perché adesso, tolto il blocco dei licenziamenti, molte imprese editoriali saranno costrette a licenziare se non si interverrà in maniera forte, come in Francia, come in Germania, come in tutta Europa, rispetto a questa filiera e per dare un supporto concreto e reale al comparto dell'editoria. Ci sarà l'inserimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta e siamo giunti a questo successo, come raccontavamo, anche grazie all'inserimento sempre in Commissione Cultura delle Osservazioni, un indirizzo che la Commissione Cultura ha dato al Parlamento più volte per sostenere proprio l'editoria. Colleghi, vedete, si tratta di un aiuto importantissimo che è fondamentale importanza per le aziende editoriali in crisi a causa della pandemia e della concorrenza con le piattaforme digitali e questo è un altro aspetto che stiamo attraversando e affrontando trasversalmente, perché in questo e su questo tema il Parlamento deve essere unito a livello trasversale. Noi ci siamo sempre impegnati per difendere l'editoria nazionale, garantendo le aziende, i posti di lavoro, il valore dell'innovazione e la qualità dell'informazione. Noi non intendiamo abbandonare i lavoratori, i giornalisti, i tecnici e i settori in difficoltà come l'editoria e la cultura. Siamo convinti che questo sia la base della democrazia. Siamo convinti che l'editoria, che conta migliaia di lavoratori, possa davvero permettere di continuare a garantire il pluralismo. Dobbiamo essere grati a chi fa informazione, a chi l'ha fatta in situazioni talvolta drammatiche. Poi un'altra buona notizia, è passato un altro emendamento per un fondo per il restauro delle dimore storiche e degli immobili sottoposti a vincolo. Anche questa è una battaglia storica, anche questa trasversale, ma portarla fino a termine sembrava essere impossibile e invece, grazie a questo fronte trasversale, ci siamo riusciti. Siamo sicuramente soddisfatti che possano essere inserite misure per il patrimonio culturale privato, ma vogliamo sollevare però numerose criticità. Innanzitutto l'esigua entità del fondo, un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ricordo che è stato riformulato, prima era a partire dagli anni 2021 e 2022 e quindi stabilizzato. Ovviamente rappresenta nulla più che un segnale simbolico, un principio. Abbiamo aperto un fondo. Adesso, colleghi rappresentanti del Governo, questo fondo va finanziato in maniera adeguata perché il circuito delle dimore storiche è un circuito di primaria importanza e chi le possiede è un custode, non è un privilegiato, perché ha un costo altissimo gestire un palazzo antico, gestire un museo privato e questo deve essere aiutato in maniera sussidiaria dallo Stato per poi metterlo a disposizione della comunità. Sono immobili privati sottoposti a vincolo. Troviamo quindi singolare la scelta di non consentire l'accumulabilità con altri contributi. Che significa? Arrivare a un contributo di credito d'imposta fino a 100.000 euro su immobili che magari valgono 10, 20, 50 milioni di euro e non poterlo cumulare con altri sostegni, che è assurdo e non è proporzionato rispetto all'intervento. Ciò anche in virtù del fatto che tali immobili rappresentano il 2 per mille dell'intero patrimonio immobilare italiano e dell'incertezza normativa che verrebbe a crearsi in caso venga fatta richiesta di accesso al fondo, ma le risorse dello stesso risultassero esaurite. Che fanno? I proprietari che hanno fatto richiesta si arrendono a nulla di fatto. In tale ipotesi si renderebbe più complesso l'accesso ad altri contributi. Cioè io faccio domanda per il credito d'imposta su questo fondo, non l'ottengo però non posso fare domanda e mi ha inibito la possibilità di fare domanda ad altri fondi, ad altri sostegni, ad altri recuperi possibili. Su questo governo dovete assolutamente intervenire. Questa non è una questione di costo di bilancio, di peso sul bilancio. Questa è una questione di buonsenso. Basta una modifica per evitare questo avvincolo che è assolutamente assurdo, insensato e non si capisce quale ufficio legislativo l'abbia potuto scrivere. Potenzialmente quindi non è possibile alla luce della richiesta di accesso al fondo in oggetto chiedere altri fondi. L'esclusione dal credito d'imposta per chi esercita attività di impresa impedirebbe di fatto l'accesso quindi a larga parte dei possibili beneficiari. Quindi nessuno lo chiederà, pochissimi lo chiederanno perché non potranno poi chiedere altri fondi, anche di altra natura. Cioè se il proprietario di un immobile storico è anche un imprenditore, non potrà accedere agli altri benefici e agli altri fondi perché altrimenti verrà escluso per aver chiesto il credito d'imposta sull'immobile. E infatti il riconoscimento del contributo alle sole persone fisiche circoscrive in modo inspiegabile tale platea escludendo a titolo esemplificativo chiunque eserciti nella sua proprietà anche attività commerciali. Magari c'è una residenza storica, magari c'è un museo privato, magari ci sono tante altre attività. Auspichiamo quindi che in successivi immediati provvedimenti si possa sanare questo aspetto carente e vincolante, inutilmente vincolante e assurdamente vincolante della norma. Quest'azione emendativa dimostra che Fratelli Italia è opposizione e forza di governo al tempo stesso. Lo abbiamo detto, lo abbiamo dimostrato. Siamo andati in delegazione con Giorgia Meloni, capigruppo da Draghi, più volte portando le nostre proposte, portando anche le nostre critiche, ma costruttive, come il cashback che grazie a Dio è stato abolito ed eravamo gli unici a chiederlo e gli unici a dirlo. Colleghi, è stato raggiunto in questi giorni l'accordo sull'aliquota minimo globale per le multinazionali, la cosiddetta digital tax. Fratelli Italia su questo si è posta sempre in avanguardia fin dall'inizio della legislatura, a tutela della concorrenza e della sovranità digitale, con una mozione in Senato e ancora prima all'inizio della legislatura, con una ordine del giorno qui alla Camera, che appunto citava per primi il concetto e il tema della sovranità digitale. I dati dell'Istat fotografano una nazione in declino. Il tramonto dell'Italia purtroppo è di fronte ai nostri occhi. Presidente, per il suo tramite, colleghi del Movimento 5 Stelle, avete visto la decadenza di Roma, dell'Italia, che governate e di cui siete principali forze. Beppe Grillo garante e adesso Conte, che incredibilmente siete riusciti a incontrarvi anche durante la nazionale a dimostrazione della scarsa sensibilità che avete nel sentimento popolare comune. Ma dicevamo, Beppe Grillo, garante, è la quinta colonna del potere del comunismo cinese in Italia e infatti ha portato subito Conte dall'ambasciatore per accreditarlo. Perché non pensate alla nazione, agli italiani, ai romani che non stanno aspettando l'arrivo del centrodestra al governo della Capitale. Su questo ci sarebbe da scrivere un libro, non c'è qui il tempo, ma qualcuno dovrebbe chiedere scusa. Qualcuno che aveva infangato il governo del centrodestra di Roma Capitale dopo l'assoluzione dell'ex sindaco Alemanno. Qualcuno che aveva costruito la propria carriera e che era venuto a Roma apposta per dire che c'era un ennesimo teorema, una mafia capitale che avrebbe presto, si sarebbe presto emersa e guarda caso è emersa alla vigilia del rinnovo della carica di sindaco e guarda caso questo tsunami giudiziario ha riscritto la storia di Roma, capitale d'Italia, portandoci prima Marino di cui poi il Partito Democratico si è avvergognato e lo ha fatto dimettere con le firme dal notaio e peraltro aveva solo forse, e poi è stato assolto, sbagliato con qualche scontrino. E poi fa parte del tema, se fa parte del tema lo decido io. No, lo decido io perché questo è un Parlamento ancora sovrano e finché abbiamo facoltà di parola lo decido io se fa parte del tema, se lo decide il popolo. E' una facoltà del Presidente, è un obbligo del Presidente, non solo una facoltà. Avete un nervo scoperto su questo Presidente, le filiere e le categorie sono allo stremo, la povertà assoluta in Italia è ai massimi livelli, va fatto qualcosa e va fatto adesso. Questo provvedimento è un provvedimento assolutamente insufficiente e non può bastare pochi ristori per andare a sostenere quello che avete fatto con una gestione confusa, assolutamente incongruente, è stato Beppe Grillo a dire che Conte non sapeva governare, con un Ministro Speranza che è ancora lì, ancora lì a dirci attenzione, non gioite troppo per la vittoria dell'Italia, non vi assembrate troppo perché la pandemia c'è ancora e ancora è qui e quindi fate attenzione come appunto un uccello del malaugurio quando invece dovrebbe pensare alla prevenzione, alla rete domiciliare, a evitare i ricoveri, a questo dovrebbe pensare e non ad altro. Colleghi, questo provvedimento è un provvedimento importante, abbiamo fatto la nostra battaglia emendativa, c'è un altro emendamento fondamentale che vogliamo rilanciare per dimostrare che Fratelli Italia pensa alla Capitale e sono l'emendamento Meloni con 10 milioni per l'arte e la cultura per Roma Capitale, qualcuno evidentemente si era dimenticato della Capitale, colleghi siamo tutti nell'osservatorio parlamentare, ma parlare di Roma Capitale senza assegnargli fondi speciali e poteri non serve a nulla. Quindi colleghi, rappresentanti del Governo, Presidente, questo provvedimento, anche su questo provvedimento Fratelli Italia ha fatto la propria parte, da parte di come opposizione patriottica, nazionalista, in difesa delle categorie, in difesa dei non garantiti, in difesa del popolo italiano. Ora fate la vostra. Grazie onorevole Mollicone e onorevole Spena. Prego.